Secondo una stima risalente al 2012, fatta dall'EMPA per il governo Monti, in Italia si stimano un numero tra i 500 e i 700 mila cani randagi. Valutazione sicuramente sottostimate da considerarsi per difetto, essendo tra l'altro i dati confermati anche dal report fatto dalla LAV nel 2018. Che il problema randagismo sia un problema grave per l'Italia lo si nota anche dal fatto che il Ministero degli Interni ha stanziato ultimamente un fondo a disposizione dei comuni di 2 miliardi di euro da utilizzare come monte ore straordinarie per gli agenti di polizia municipale ed attrezzature. La legge in vigore, la 281 del 91, pianifica appunto una rete di assistenza e interventi che fa capo ai comuni e alla polizia locale. Ciò che è stato deciso dall'amministrazione comunale fanese grazie ai fondi ministeriali è una lotta senza quartiere, oltre che al fenomeno del randagismo anche nei confronti di possessori e conduttori di cani, che non applicano né l'educazione né il buon senso, lasciando le aiezioni dei propri animali lì dove sono state depositate, creando un problema igienico-sanitario e di civile convivenza negli spazi pubblici, come giardini e punti di passeggio, come più volte segnalato dai cittadini. La polizia locale per presidiare parchi e luoghi pubblici maggiormente frequentati, per andare a vedere la corretta detenzione dei cani, capire se i cani sono tutti dotati di microchip, per cui voglio ricordare che tutti i cani devono essere portati al guinzaglio, e che un proprietario che esce a passeggiare con il proprio cane deve essere dotato di sacchetto per raccogliere le aiezioni. Il gruppo di agenti che fanno capo alla sezione ambientale del Corpo della Municipale di Fano lavoreranno in orario extralavorativo ed effettueranno controlli mirati sin da subito per il rispetto delle regole in vigore. Nel momento del controllo proprio verrà verificato che il cane sia dotato di microchip. In questo progetto al quale abbiamo aderito prevede anche l'acquisto di determinati lettori microchip che consentono intanto di individuare subito il proprietario del cane. E questo è utilissimo quando si trovano dei cani vaganti sul territorio. Quindi onde non incorrere in pesanti sanzioni, i proprietari dei cani dovranno portare i loro amici a quattro zampe, sempre al guinzaglio. La legge parla di una lunghezza massima dello stesso di un metro e mezzo. I guinzagli quindi dai sei metri inoltre non sono in regola. Il possesso del sacchetto per raccogliere le feci dell'animale ed il possesso anche della museruola con sé che all'occorrenza o in situazioni particolari va fatta indossare all'animale. Chi vuol lasciare invece libero il proprio animale di scorazzare lo può fare negli sgambatoi comunali di Fano 2 o Bellocchi o in quelli privati di Carrara e dell'ex zuccherificio. Grazie.